908 per casi importanti e delicati interviene anche a domicilio se vuoi puoi fissare un appuntamento riservato al numero 335 65 92 908 durante la telefonata puoi parlare direttamente con lui ti dirà il luogo, l'ora dell'appuntamento che sarà riservato non consulta più di 5 persone al giorno per concentrarsi maggiormente sul tuo caso il tuo grande amore ti ha lasciato? vuoi sapere se troverai lavoro e in che modo? tuo figlio è cambiato, irrequieto? ti preoccupa il suo stato d'animo? puoi trovare chiare risposte e risolvere i tuoi problemi chiamando il mago Letterius riceve in qualsiasi parte d'Italia e per l'estero riceve a Barcellona Madrid per la Spagna e anche nella zona del Portogallo il mago Letterius rivela verità nascoste che sono in te porta luce nella tua vita ti protegge da ogni azione negativa e porta nella tua casa serenità e successo raccontiamo la disperazione di una madre la signora Anna Cantaluppi